Ciao a tutti, io sono Max e benvenuto a questo nuovo video. Siamo qui nel buio, nelle tenebre, perché oggi è il 10 agosto, quindi la notte di San Lorenzo, e sono venuto a vedere le stelle cadenti. Sono nella mia macchinina, sono appena arrivato a destigiazione, una collinetta nelle valli di Natigione e adesso mettiamo lo sdraio, mettiamo qualche cosa e aspettiamo le stelle cadenti, quindi vi faccio qualche ripresa con la fotocamera, con l'infrarosso, magari vediamo meglio. Ciao, a dopo! Bene, eccoci qua, il buio, ripresa di infrarosso, però c'è una bella rietta assolutamente un momento di caldo. Non stiamo vedendo niente, a parte il cielo che si sta riluvolando perché c'è un ventaccio, quindi non lo so, mi sa che non è la serata giusta. Allora, la serata è andata come è andata, non ci sono state stelle cadenti, mi dispiace, non le abbiamo viste, se c'erano non si sono fatte vedere, però per ringraziare i miei followers vi voglio regalare comunque delle immagini delle stelle cadenti, non mie, ma prese da altri siti. Sperando che vi portino fortuna, perché comunque le stelle cadenti portano sempre fortuna.